per uno che si accolato l'altra volta no, qualche riappuccia eh si? una roba a 5 o 6 chilo bello 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 bisogna da piano perchè hanno la buca delicata bello bello bellissimo L'hai appena attaccato eh guarda! Piega il bocca dai! Ciappaga col bocca! Eh, sennò addio! Non c'è mola! Bravi ragazzo vieni qua! Oh cicico! Oh bravo Aldonao! Giappeso il peccato! Eh però è penetrale ancoretta eh! Si eh! Ma fa culo! Occio! Fatti vedere! Prendilo in mano! Aspetta che ti dobbiamo fare la trance! Andai ora che ti dobbiamo fare la trance! Dai lì tranquilli! Ehi! Guardami! Guardami! Slunga un po' il tupese! ... ... ... ...